Le umiliazioni per il nostro Sud, per la Puglia e per il Salento in particolare non finiscono mai. Non bastava il gasdotto che appunto collega l'Azerbaijan con Melendugno, Santa Foca, lì appunto è lo sbocco, l'approdo. Abbiamo visto tutte le polemiche ma si raddoppia perché Salvini va in Israele a metà dicembre e si fa sponsor di un nuovo progetto, di un nuovo gasdotto che partendo da Israele dovrebbe arrivare ad Otranto per ammorbare, per violentare, per stuprare ancora una volta il territorio del Salento. Infatti a metà dicembre Salvini è stato in Israele e con toni trionfalistici ha esclamato difendo l'interesse italiano e per gli italiani avere maggiori forniture di gas e quindi una bolletta più bassa è una priorità. Credo, dice Salvini, in questo progetto conto che vada avanti con partnership e investimento italiani. Intanto che se ne frega Salvini che queste cose accadono al sud, che se ne frega Salvini che il nostro Salento è stato distrutto, è stato ammorbato. Pensate un po' tutto il nostro Salento tra TAP, tra ILVA, Taranto-Tempa-Rossa, insomma immaginate in che polveriera ci troviamo a vivere. Per la verità questo è un progetto che risale ai precedenti governi e infatti questa fregatura stava man mano maturando perché già c'è stato un memorandum, un incontro, c'è stato un incontro nel 2017 da cui è emerso un memorandum di intesa di Istmed che risale al 2017 tenutosi a Tel Aviv e c'è stata l'intesa tra Italia, Israele, Cipro e Grecia. Quindi già il precedente governo, criminale evidentemente, portava avanti questo percorso e poi ovviamente ora la natura assolutamente industrialista e distruttiva dell'ambiente di Salvini ha fatto tutto il resto. Si tratta di un gasdotto che ha una lunghezza, si snoda per 1.900 chilometri, 1.300 in mare e 600 on shore, parliamo di circa 2.000 miliardi di metri cubi di gas a disposizione, 7 miliardi di euro la stima complessiva, la stima del costo complessivo. Vedete un po'. L'aspetto è che forse la cosa è stata sottaciuta, non ha avuto la eco-mediatica necessaria per svegliare le coscienze, per far capire quello che stava accadendo. Un po' è come un cancro che in maniera silente penetra, si ramifica e poi magari quando è troppo tardi, come dire, emerge, si slatentizza, per così dire. E i pugliesi vivono felici e contenti, fin quando poi la frittata è bella e fatta, fin quando poi si dirà, eh beh, non possiamo fare più niente, non si può tornare indietro, perché ci sono state le autorizzazioni e altro non può farsi. Questo è l'aspetto su cui voglio insistere. Cioè, ora noi, nel nostro piccolo, come organo di informazione, stiamo cercando di aprire gli occhi, stiamo a aprirvi gli occhi, di far capire che non bastava la TAP, quella che arriva a Santa Fuca, a Melendugno, ma ce n'è un'altra, c'è un altro gasdotto che arriverà ad Otranto, perché Salvini se ne fotte, scusatemi l'espressione del Sud. Salvini deve pensare agli interessi industrialisti e dice, tanto che me ne frega, il mio Nord non viene toccato, andiamo a stuprare il Sud, andiamo a stuprare il Salento. Questa è la realtà. Quindi pensate anche proprio l'arroganza che c'è nello schiaffeggiare le nostre terre, in cui non basta già quell'umiliazione della TAP che arriva a Melendugno, ma dice, raddoppiamo. Io dico, i nostri consiglieri regionali, i nostri parlamentari, dove stanno? E la signora Barbara Lezzi, il ministro del Sud, dove sta? Dorme? Com'era facile per Barbara Lezzi fare la barricadera in campagna elettorale, ora invece accetta tutto. Questa è l'Italia, questo è Salvini, questo è il governo pentaleghista, un rimedio certamente peggiore del male. Senza bavaglio, informazione libera, sempre!